Ben tornati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo dal Catanese per la precisione da Belpasso dove un minorenne dopo aver commesso due rapine si era rifugiato a casa di alcuni amici i quali però a loro volta nascondevano droga e armi. A questo punto sono intervenuti i carabinieri e sono tre le persone finite in manette. I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato in fragranza per rapina aggravata un minorenne incensurato di Mascarucia già affidato a una comunità di recupero per minori nonché una 45enne e un 18enne madre e figlio incensurati di Belpasso per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi o munizioni. Nella circostanza i militari allertati da diverse chiamate pervenute al 112 si sono regati nel centro cittadino di Belpasso accertando che poco prima un soggetto sotto minaccia di coltello e pistola aveva commesso in serie due rapine ai danni rispettivamente di una lavanderia e di un panificio fuggendo a piedi. Sono state quindi avviate da subito serrate attività d'indagine e di ricerca che hanno consentito di individuare l'appartamento dove il giovane si sarebbe potuto rifugiare. I carabinieri hanno pertanto fatto eruzione nell'abitazione dove vivono la madre 45enne e suo figlio 18enne entrambi presenti durante le fasi della cattura bloccando il rapinatore all'esterno sul balcone. Si è poi proceduto alla perquisizione domiciliare che ha permesso di recuperare nella camera da letto del ragazzo droga e armi. In particolare sono stati rinvenuti 94 grammi di hashish suddivisi in 27 dosi, 78 grammi di marijuana ripartiti in 10 dosi e due bilancini di precisione nascosti nell'armadio, 5 coltelli a serramanico, una pistola salve priva di tappo rosso e 22 cartucce calibro 9 celati nel comodino. Nella stanza da letto della donna gli operanti hanno invece recuperato sempre in un comodino una seconda pistola salve identica alla precedente, anch'essa senza tappo rosso. Tutto il materiale è stato quindi sequestrato. Anche per madre e figlio è quindi scattato l'arresto convalidato dall'autorità giudiziaria ordinaria che ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il minorenne è stato invece posto a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile che ha anch'essa convalidato l'arresto ed emesso la misura della custodia cautelare presso l'istituto penale per minorenni di Catania. Parliamo ora dei controlli effettuati dai carabinieri a Catania nel quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno rinvenuto una stalla abusiva con all'interno ovviamente un cavallo ma anche 700 grammi di marijuana nascosti in un garage. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Catania a Fontana Rossa con il supporto dei colleghi del XII Regimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi nonché con l'ausilio di personale veterinario dell'ASP di Catania hanno svolto un servizio di contrasto all'illegalità diffusa e al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Giovanni Galermo. Nella circostanza i militari dell'arma nell'ispezionare un garage in via ustica di proprietà di un pregiudicato 48enne catanese si sono trovati di fronte ad una vera e propria stalla al cui interno era alloggiato un cavallo. Per l'uomo sono quindi scattate le previste sanzioni amministrative per un importo pari a 1800 euro stante la mancata registrazione del locale adibito a scuderia l'omessa registrazione nella banca dati nazionali del cavallo e l'irregolarità connessa al sistema di identificazione degli animali essendo il cavallo sprovvisto di microchip. L'animale visitato dai veterinari dell'ASP che lo hanno trovato in apparenti buone condizioni generali di salute è stato affidato in custodia al proprietario che dovrà immediatamente farsi carico di reperire un alloggiamento adeguato alla sua custodia. Nel proseguo dell'attività operativa e il dispositivo dei carabinieri anche grazie all'ottimo fiuto dei cani antidroga ha inoltre rinvenuto ben nascosto in un locale attiguo al predetto garage un borsone contenente 700 grammi di marijuana suddivisa in sei buste nonché una pistola giocattolo priva di tappo rosso con caricatore senza colpi. A riguardo sono in corso le indagini e gli esami tecnici volti ad accertare la riconducibilità della droga e dell'arma al momento sequestrate a carico di gnoti. Nell'ambito del medesimo servizio i militari dell'arma hanno infine proceduto al controllo di una trentina di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari riscontrandone la regolare presenza in casa. Ci spostiamo adesso nella Trapanese e continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato per furto aggravato una donna marsalese di 46 anni presunta responsabile di avere asportato capi di abbigliamento per un valore di circa 100 euro da un'attività commerciale. La donna avrebbe nascosto dei vestiti all'interno della borsa e sarebbe uscita senza passare prima dalla cassa facendo però scattare l'allarme antitaccheggio che ha allertato il personale della stessa attività commerciale. È stata pertanto bloccata dal direttore che ha poi avvisato i carabinieri i quali hanno provveduto alla denuncia della donna e alla restituzione della merce alla vente diritto. Cambiamo argomento, la DIA ha sequestrato beni per quasi 7 milioni di euro a un noto imprenditore di Naso, siamo nella messinese. Vediamo il servizio. La direzione investigativa antimafia ha effettuato un maxisequestro di beni nei confronti del noto imprenditore Nunzio Ruggeri. Le indagini economico-finanziarie della DIA iniziate nel 2017 e coordinate dalla procura di Messina hanno portato prima al sequestro e poi all'acquisizione da parte dello Stato del patrimonio illecitamente accumulato dall'imprenditore originario di Naso nel messinese dopo una sentenza della Cassazione. Oltre a un consistente patrimonio finanziario e immobiliare dislocato nella provincia di Messina tra Capodorlando, Naso, Brolo e Sant'Agata di Militello, i beni sequestrati a Ruggeri comprendono anche il 50% di una società tra quote e beni aziendali tuttora operativa nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame con un volume d'affari al momento del sequestro di circa 5 milioni di euro e il 20% di un fondo consortile nello stesso settore commerciale. Il valore dei beni confiscati ammonta quasi 7 milioni di euro. L'imprenditore che nel tempo ha intrattenuto rapporti con esponenti di spicco dei sodalizi mafiosi dei tortoriciani già nel 2005 era stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Messina per usura avendo prestato denaro a tassi fuori legge a un funzionario di banca che tentava di ripianare la situazione debitoria creata a calico del proprio istituto di credito. Ancora cronaca, ci spostiamo virtualmente nell'Agrigentino per la precisione a Favara dove i carabinieri della locale tenenza in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento hanno arrestato e portato in carcere un 72enne favarese. L'uomo infatti ha violato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata in danno delle ex moglie. Accertata la violazione, i carabinieri hanno rintracciato il 72enne e dopo le formalità di rito lo hanno accompagnato presso la casa circondariale Pasquale di Lorenzo. Ed ora a Siracusa parliamo dei controlli effettuati dalla Polizia in alcuni esercizi commerciali della città. Sono state riscontrate diverse irregolarità con gli agenti che hanno elevato sanzioni per 37 mila euro complessivi. Tutti i dettagli nel servizio. Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Siracusa insieme agli ispettori dell'Ufficio Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASP di Siracusa e al personale della Polizia Municipale hanno effettuato dei controlli che hanno consentito di far emergere alcune violazioni di carattere igienico-sanitarie e di natura amministrativa. I controlli si sono concentrati su attività di panificazione, supermarket e ristoranti dove sono state riscontrate carenze nei requisiti generali e specifici in materia di igiene e di omissione delle procedure di autocontrollo. Inoltre sono state accertate sanzioni amministrative per la mancanza della licenza, delle autorizzazioni relative alle insegne pubblicitarie, per l'assenza della prevista cartellonistica indicante gli orari di apertura e chiusura delle attività e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Per tale ragione è stata anche emessa una sanzione accessoria di chiusura di un'attività commerciale per 5 giorni. L'importo complessivo delle sanzioni è di 37 mila euro. Infine, in particolare, in un'attività di vendita di alimenti venivano commerciate anche delle bombole di gas senza che il titolare avesse chiesto la variazione della licenza, mentre in un altro minimarket, oggetto di controllo da parte di personale delle volanti, è stata segnalata la presenza di alimenti non tracciabili in cattivo stato di conservazione e scaduti. Torniamo nell'agricentino, stavolta però a Porto Empedocle, dove i finanzieri della locale tenenza hanno sequestrato circa 100 paia di scarpe e diversi capi di abbigliamento di varie marche, ovviamente contraffatte. Si tratta di un'operazione contro l'abusivismo commerciale condotta dai militari della Guardia di Finanza tra Eraclea Minoa e il centro di Cattolica Eraclea. Alla vista dei finanzieri, gli ambulanti abusivi sono scappati abbandonando la merce in strada con le fiamme gialle che, come detto, hanno provveduto a sequestrarla. Controlli analoghi verranno ripetuti anche nei prossimi giorni. Ed ora invece sentiamo Lucio Di Mauro che ha intervistato Marco Pappalardo, docente e scrittore, che ci presenta il suo ultimo lavoro, il libro Cara scuola ti scrivo. Sentiamolo. Siamo con Marco Pappalardo, ormai un po' conosciuto nel nostro territorio per tanti aspetti ecclesiastici, ma per adesso tu sei un docente, è l'ennesima tua opera che hai già in mano, Cara scuola ti scrivo, l'attualità diretta a una professoressa. Marco, intanto grazie per la tua disponibilità. Vogliamo subito parlare di questa tua nuova opera, è un testo nato dalla lettura in una tua classe del libro degli studenti di Don Milani? Sì, grazie, è stata una bella occasione di rilettura lo scorso anno con una classe di quinto anno dell'Istituto Majorano Arcoleo di Caltagirone dove insegno. Con questa classe abbiamo letto lettera a una professoressa, questo testo scritto dagli studenti di Don Milani diversi decenni fa. Da qui è nata l'idea di provare a ripensarlo, di attualizzare i pensieri che questi studenti avevano raccolto e messo insieme, poi era diventato un celebre libro e testo, per poter dire oggi che cosa significa vivere la scuola, cosa significa appassionarsi allo studio, cosa significa essere studenti e docenti in questo tempo che cambia. Senti, quest'opera deve far riflettere con semplicità, tu dici, sul varo della scuola per essere buoni cittadini? È il punto di partenza, tra le altre cose l'educazione civica è ormai una disciplina che in tutti gli ordini gradi di scuola è obbligatoria e la scuola è in se stesso un cammino di educazione civica, un percorso in cui studenti, docenti e anche le famiglie impariamo a stare nella società, comprendiamo il mondo, quantomeno ci proviamo e cerchiamo di dare il nostro contributo. È bello anche che tu sottolini che questo deve essere un senso dello studio per il presente ma soprattutto per il futuro. C'è il rischio che gli studenti non comprendano pienamente il valore di ciò che hanno tra le mani, ciò che passa loro in quei 200 giorni di scuola tutto l'anno e che magari si perdano dietro gli aspetti più tecnici, chiamiamoli così, della scuola, l'interrogazione, le verifiche, perdendo di vista la bellezza dello studio, la passione per le discipline. Il ritrovarsi insieme tra coetane e la relazione educativa che può nascere tra docente e studente. Ed ora parliamo di Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, bollettino ovviamente della giornata di ieri e che si riferisce chiaramente alla Sicilia. Sono 532 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 5.013 tamponi processati. Tasso di positività al 10,6% e Sicilia all'ottavo posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 12.589, i nuovi guariti invece sono 954. Purtroppo c'è un'altra vittima e quindi l'acconto totale dei decessi in Sicilia sale a 12.208, dato ovviamente questo che si riferisce dall'inizio della pandemia fino ad oggi. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 13 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 14. In questo caso si tratta dello stesso numero del giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, Catania stavolta è la provincia con il maggior numero di nuovi casi 157, poi Palermo con 153, più di staccata Messina con 60 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati molto più bassi. L'ultima provincia siciliana per numero di nuovi contagi è la provincia di Enna con appena 9 nuovi casi. E con il bollettino Covid ci fermiamo, per il momento è tutto, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24.